E' importante. Qualcuno non mi conosce? Diverta! 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 Mi vogliono dire? C'è questo? Mi ricordate tanto? E' importante. E dunque partecipo a questa manifestazione perché ho due figli, uno di 18 e uno di 21. E' perché penso che questa finta pandemia sta distruggendo i diritti costituzionali degli esseri umani. Non nego che esista il Covid, ma non è mortale e uccide persone con il sistema immunitario già aggravato. Grazie a tutti.